Anticipazioni Tempesta d'amore, sabato 7 dicembre 2019. Tina e Ragnar sono al settimo cielo. Per la coppia tutto sembra volgere al meglio, ma poi la Kessler ascolta una conversazione molto compromettente tra Werner e André e si impensierisce. Ragnar l'ha tradita con Solveig? Natasha fa salti di gioia e confermato ha ottenuto il ruolo per il quale dovrà ingrassare molti chili. Quando riceve la sceneggiatura però si incupisce. Il film è stato riscritto. La donna cosa farà adesso? Jessica scopre che all'interno del suo orologio a cucù è stato ritrovato qualcosa di inestimabile valore. Hildegard intende realizzare il suo vecchio sogno di Alphonse, una gita con un'auto d'epoca noleggiata. Tuttavia poiché affittarla è molto costoso, la signora Zombiecler decide di optare per qualcos'altro. Alphonse sarà contento lo stesso?